ebbene sì sono stato all'anteprima stampa di Deadpool e Wolverine e sono qui per dirvi la mia sempre ammesso che mi riesca a mettere questa doppia collana partiamo Deadpool e Wolverine terzo capitolo della trilogia riguardante il clown dell'MCU ossia Deadpool questa volta con il mitico Wolverine partiamo da due informazioni base base di che parla la trama non è davvero importante parla di Deadpool che vuole salvare il suo universo dopo una sorta di casino che potrebbe aver creato visto che ha interferito con le linee del multiverso e ormai sappiamo che questa cosa è in una qualche misura organizzata e sorvegliata da dei gruppi speciali e da qui parte un assunto per cui è necessario utilizzare Wolverine o sembra esserlo o Deadpool fam in modo che serva per salvare la linea temporale e forse il tempo intero da qui partiranno una serie di casino di schiaffi di caos e di sceneggiatura che in realtà è una sequela infinita di trovate per portare in scena un po' di violenza un po' di cazzeggio un po' di idiozia contro un ipotetico villain che però non si capisce bene chi è fino a un certo punto ma tutto questo non è importante perché chiaramente ci troviamo davanti a un film che non punta sulla scrittura non punta sulla sceneggiatura non punta sulla costruzione di una storia che si regga sulle sue gambe ma più una sequela dietro l'altra di gag come già detto sequenze di schiaffi violenza idiozia ancora idiozia e citazionismo come se non ci fosse un domani insomma questo Wolverine e Deadpool fondamentalmente è quello che dovete aspettarvi da un film su Deadpool dal terzo capitolo di questa trilogia dopo aver visto le origini di questo eroe dopo aver visto il suo cercare di guadagnarsi un posto nell'universo lo vediamo in una qualche misura continuare a cercare di inseguire il sogno di poter essere importante e nel farlo finire invischiato in una serie di eventi più grandi di lui che però alla fine faranno sì che lui possa forse avere l'occasione di essere davvero importante non ci soffermeremo oltre su quello che è la storia ma quello che dovete capire è semplicemente che vi troverete davanti un film che vuole essere un Luna Park e poco altro non è appunto uno dei film a Marvel che potrebbe salvare l'MCU inteso come progetto ampio ma è semplicemente un film da andare a vedere se si vuole un po' indugiare in quel tipo di intrattenimento indugiare in quel tipo di volgarità e in quel tipo di super violenza perché forse il capitolo anzi senza forze più violento in assoluto con più sangue più smembramenti e l'altro elemento che dovreste aspettarvi ecco per capire se questo film fa per voi è il citazionismo io penso che nella storia dell'MCU non si sia mai raggiunto un livello di citazionismo così alto nel senso che ciò che viene citato non è solo ciò che vi potete aspettare e ci sarà tutto quello che vi potete aspettare ma è anche tutto quello che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare non dico di più perché non voglio fare spoiler però ve ne renderete conto se avete seguito l'MCU se avete seguito anche tutta la storia non solo dell'MCU ma di quello che sono stati i film della Marvel che ovviamente quando si tratta di Deadpool vanno a toccare anche l'universo degli X-Men e ci buttano dentro stavolta davvero di tutto ricacciando ricacciando personaggi che non vi aspettereste vengano ricacciati e addirittura personaggi che sicuramente non vi aspettate che possano fare la loro comparsa in questo film e invece la faranno e tutto questo diventa paradossalmente la colonna portante del film stesso quando si è parlato dell'ultimo Spider-Man dell'MCU in cui c'erano i tre Spider-Man mi avete sentito anche abbastanza deluso per il quantitativo di fondamentalmente fanservice che zeppava qualunque cosa di quel film questo film è anche peggio da quel punto di vista ma e questo è importante non mi ha dato minimamente fastidio perché è un film di Deadpool non è il film che mi aspetto sia significativo per l'MCU è proprio un corrispettivo del fanservice perché sa ed è consapevole che quello che da lui ci si aspetta quindi non penso che si possa restare delusi da qualcosa che in realtà cavalca esattamente l'idea che attorno a questo brand anche grazie al lavoro di Ryan Reynolds è stata costruita punto quindi valanghe di citazioni valanghe di personaggi valanghe di Luna Park per il fan Marvel è tutto qui se siete quindi una persona che è cresciuta con quei fumetti se arrivate lì non aspettandovi più di quello che è un terzo capitolo di una saga come Deadpool può offrirvi vi divertirete se cercate una sceneggiatura una scrittura degli elementi interessanti ecco beh probabilmente resterete delusi ed anzi ci sono dei momenti emotivi più legati a Wolverine in realtà che però sono gli elementi che storano di più all'interno del prodotto che sembrano quasi farci sentire a disagio perché sono inserti che mal si sposano con quello che è lo spirito di Deadpool che è uno spirito di puro sano cazzeggio personalmente mi ha divertito punto come mi hanno divertito gli altri due capitoli ma posso anche dire senza timore di sbagliare che sia il capitolo più debole malgrado al suo interno ci sia Wolverine che è il mio supereroe Marvel preferito e viene fatto un buon uso di Wolverine nei limiti di quello che è l'accoppia del duetto con Deadpool con loro che ovviamente faranno schiaffi a più riprese con loro che si metteranno insieme per fare schiaffi contro tonnellate di altri nemici basta è questo unghia proiettili volgarità violenza c'è tutto questo e ci sono milioni di volti noti che anche inaspettatamente sono lì e aggiungo dal punto di vista del fanservice che però è fatto quasi tenerezza perché c'è un livello di amore quasi e si evince proprio in una sequenza post credit tra virgolette durante i titoli di coda che in realtà ci fa un po' rivivere quello che è stata la storia dell'universo Marvel legato ai personaggi che vedremo in questo film che fa emergere un po' anche di amore per quei progetti che sono finiti malissimo all'interno dell'universo Marvel e sempre televisivo ok sempre di Hollywood stiamo parlando ma che sono stati anche dei flop anche film che tutti noi amanti della Marvel abbiamo odiato quell'inserto lì ti fa percepire l'amore di gente che semplicemente quei personaggi li ha voluti mettere in scena in quei progetti ci si è voluto imbischiare e sporcare paradossalmente anche il curriculum e la reputazione a tratti però mi ha fatto sorridere questa cosa perché non è un film che si prende sul serio è un film che gioca anche col suo essere film sfondando costantemente la quarta parete e così via dove tutto il fan service negli spider man mi ha dato fastidio perché non è quello che volevo da quel tipo di prodotto all'interno di un prodotto del genere che chiaramente non vai a vedere perché vuoi vedere un nuovo tassello dell'MCU ma perché lo vai a vedere perché vuoi vedere Deadpool che fa il coglione e che per una volta sta insieme a Wolverine che è quello che da tutti gli anni in cui abbiamo visto quelle accoppiate anche nei fumetti vogliamo vedere questi due qui questi due amici per sempre da quel punto di vista sicuramente sono in grado di intrattenervi ovviamente se non vi è piaciuto nessuno degli altri Deadpool non vi piacerà nemmeno questo come detto è il più debole della trilogia in senso di film per proprio è letteralmente come già detto un viaggio in un luna park pieno di psicopatici di violenza di cazzeggio di volgarità gratuite e totalmente non richieste che proprio per questo diventa però un'operazione consapevole quindi nella mia persona le scaletta abbiamo Deadpool capitolo 2 che resta l'esatta evoluzione di quello che è stato il primo film salendo a livello di portata di quello che è stato il resto dell'MCU poi abbiamo il primo capitolo che è quasi un film indipendente ma che c'ha dentro tutto lo spirito di Deadpool e si vede benissimo e poi c'è questo terzo che è così la caramellina che un nerd ogni tanto si può concedere sarà già con certezza uno di quei film che diventerà il guilty pleasure di tanti di noi e va bene così ogni tanto quando vorremmo avere un momento di cazzeggio lo metteremo su schermo e va bene ce lo vediamo ce lo gustiamo e dieci minuti dopo non ci ricordiamo nemmeno bene gli sviluppi di trama perché sono una sequenza di McGuffin cazzate eventi fortuiti che però si incastrano in modo casuale e punto perché non hanno quasi una sceneggiatura che li supporti e non nel senso che quando lo vedrete starete lì a dire oh ma questa cosa non funziona ma qui c'è un buco no non ve ne fregherà niente nemmeno di seguirla davvero la trama verrete trasportati da una situazione all'altra e ve la gusterete e va bene così per quanto mi riguarda da Wolverine e Deadpool perché questo è l'ordine che il mio cuore vuole non mi potevo aspettare altro tutto qui ragazzi quindi ci prendiamo un momento come al solito per ringraziare ovviamente il team Walt Disney che mi ha permesso di partecipare a questa anteprima ovviamente tutti voi che seguite il canale che magari schiacciate la campanella commentate mettete un bel like o magari scegliete di fare un giro nella pagina Patreon per vedere se vi va di supportare questo qui che è il vostro gels di quartiere ricordiamolo e a tal proposito un grande grazie a tutti i Patreon letto questo non ci si vede qui la prossima volta con il prossimo contenuto in questo periodo non sto portando tutti i video cicciosi che vorrei ma è un periodo decisamente complesso ciao belli ci si vede la prossima volta e mi raccomando eh amici per sempre che coglione Ryan Reynolds